Nonostante Roma Capitale le consideri testualmente un patrimonio di esperienze educative, da tempo il decimo municipio non consente più lo svolgimento delle attività integrative nelle scuole dell'infanzia comunali. Anche quest'anno non è stato emesso il bando per l'erogazione del servizio che prevede il coinvolgimento di associazioni culturali qualificate. Nei giorni scorsi finalmente l'area socioeducativa ha emesso una circolare per il tardivo avvio dei corsi ma con una clausola che ha fatto letteralmente insorgere i battaglieri genitori della scuola Quinqueremi ad Ostia. È stato emesso questo mini bando, chiamiamolo così, questo bando che riguarda gli ultimi mesi di scuola che però praticamente aveva una clausola all'interno che prevedeva l'unanimità di tutti i genitori, tutte le famiglie di ogni singola sezione per poter partire con l'attività. Chiaramente come era possibile in un caso, nel caso della mia sezione, una famiglia non ha firmato, al di là dei motivi che tra l'altro non conosciamo, ma comunque ha impedito a tutta la classe, per questa clausola veramente ridicola, di poter avere questa attività integrata. Non possiamo vedere preclusa un'attività a 23 bambini per la decisione di uno, cioè è proprio assurdo. Voi genitori ritenete che queste attività integrative siano importanti per la crescita dei vostri figli? Sì, assolutamente e inoltre mi sembra ingiusto che mio figlio venga discriminato anche perché questa attività non è scelta a caso, ma va appunto a integrare quello che è il programma didattico scelto dalle nostre maestre, che ad esempio nello specifico è sui colori. Come ve la spiegate voi l'introduzione di questa clausola che è quasi dell'assurdo insomma? Ma in realtà no, non abbiamo assolutamente idea sul perché venga messa questa clausola anche perché non ci possono essere motivazioni valide. Noi sono già due anni che ci battiamo per questo diritto e abbiamo mandato mail e comunicazioni alla Saracino. Abbiamo avuto un piccolo contentino l'anno scorso che ci hanno permesso l'ultimo anno di attività integrativa con un maestro che è sempre stato quello che faceva musica e preparava tutto i bambini per fine anno eccetera eccetera. Però niente, è una guerra persa che continuiamo a lottare perché non è possibile una volta che è uscito una specie di bando perché dicono che devono fare un bando ma questi bandi non escono mai. Adesso sembra che c'è questa attività integrativa, non sembra, non c'è, è proprio iniziata oggi e noi per una firma non possiamo aderire nonostante sono due anni che lottiamo per questa cosa. Le mamme non si sono perse d'animo ed hanno interessato della questione il dottor Luca Di Maio che ha preso il posto di Gabriella Saracino alla direzione dell'unità socioeducativa. Il neodirettore ha annunciato l'emanazione di una nuova circolare che dichiara nullo il requisito dell'unanimità ritenendo sufficiente la maggioranza. E chissà che il prossimo anno non sia quello buono per avere un vero e proprio bando con l'inizio delle attività a settembre.